Buongiorno gentile cliente. Sei stanco di lavorare in un locale che ha gli stessi colori da tempo? Togli la patina di grigio lasciata dal Covid e rinnova colorando il tuo locale con le nuove tovaglie antiscivolo e antimacchia Isacco. Oggi ho il piacere di presentarti la novità sulle tovaglie Isacco. Le tovaglie hanno tre caratteristiche principali e sono antiscivolo, antimacchia, antivento. Ecco che molti di voi desideravano un prodotto con queste caratteristiche ed ora vediamo com'è semplice e pratico vestire un tavolo con le tovaglie antiscivolo Isacco. Vediamo insieme questo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.